I balenieri sono in fila in primo piano con aria fiera e soddisfatta, tre portano un berrettino di lana con il pompon, uno di loro deve essere il mastro, ha uno strano cappello di tela incerata a foggia di pompiere e un sorriso appena accennato. Sono tutti scalzi, solo il mastro calza degli stivali. Immagino che poi tutti uscirono dalla fotografia, si tolsero il cappello ed entrarono in chiesa per assistere alla messa, gli arpioni appoggiati al muro esterno uno accanto all'altro come si appoggiano le biciclette, l'enorme massa lucida e scura della balena, abbandonata sul sagrato come se fosse la cosa più naturale del mondo. Così passò il Natale a Pico nel 1919. Il Natale a Pico nel mondo. il Natale a Pico nel mondo. Abbiamo un avvio al l'ho. Tenho navios no mar Tenho amor ali de pronto Não posso consolar Justine, busque-se Tipo 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 Grazie a tutti